In occasione dell'antologia enogastronomica in giardino promossa dal ristorante Rusticanella torna anche il premio del Mediterraneo. Arrivato alla sua terza edizione la consegna del premio sabato 14 giugno dalle ore 19 e 30 presso il ristorante Jesino. Quali sono i quattro premiati di quest'anno e con quali motivazioni? I quattro premiati sono il professor Cagliotti in primis perché è un grande scienziato che lavora a Roma, si è dedicato molto agli alimenti, nella composizione chimica degli alimenti. Dopo una giornalista spagnola, anche lei conduce un servizio, addirittura un servizio televisivo sul food, quindi sugli alimenti. Dopo abbiamo un'azienda marchigiana per l'innovazione tecnologica portata a un prodotto di confettura e dopo abbiamo il NASA, il NASA che ha dato un grosso contributo, si è dando un grosso contributo alla genuità e alla qualità degli alimenti. Quindi tra le personalità premiate è anche appunto il capitano del NASA, fa molto per i consumatori e i produttori? Io devo dire che fa molto per tutti, perché i carabinieri sono in primis quelli che ci tutelano, ci tutelano anche per quanto riguarda le sofisticazioni naturalmente in questo caso, ma anche per l'ingolumità nostra e quindi anche degli alimenti. Quindi impediscono, come dire, la tecnologia sommersa per la produzione di alimenti non di qualità. Il premio del Mediterraneo quest'anno diventa veramente Mediterraneo? Certo, esce dai confini nazionali, per la prima volta ospita un personaggio straniero, una fattispecie spagnolo, una giornalista che è titolare di una rubrica televisiva di una catena abbastanza importante, un'emittente spagnola. Quest'anno tra l'altro ai premiati, come riconoscimento verrà consegnata una tela di Walter Valentini. Chi è Walter Valentini? Walter Valentini intanto è un marchigiano, questo ci fa piacere, ma è un personaggio di livello internazionale, è considerato uno dei più grandi astrattisti lirici del Novecento, soprattutto la seconda metà del Novecento, è nato a Pergola nel 1928, quindi festeggia gli Ottant'anni e li festeggerà anche con un'importante mostra che il Comune di Ancona e la Regione Marchi gli stanno preparando alla mole vanvitelliana entro il corrente anno, per essere precisi, verso la fine di settembre. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.